Buongiorno, oggi parliamo della Bellier B8S. Questa autovettura si è rinnovata sostanzialmente sottopelle, infatti oggi risponde alle normative introdotte nel 2018 che permettono alle case costruttrici di avere auto più pesanti e quindi di conseguenza più sicure, più affidabili ed anche più confortanti. La nuova Bellier in assetto di marcia pesa ben 650 kg e inoltre adotta un motore common rail ed iniezione diretta completamente privo di vibrazione che la rende una autovettura a tutti gli effetti. All'interno ritroviamo tutto il lusso che desideriamo e tutta l'elettronica di bordo al completo, radio touchscreen, bluetooth, viva voce, retrocamera con sensori di parcheggio, specchietti elettrici ed eleganti interni in pelle che la rendono molto esplosiva. Doppio scarico posteriore, cerchi da 15 e prese d'aria completano l'allestimento sportivo. Per tutto il resto sapete sempre come e dove trovarci. Grazie. 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 Grazie.